Siamo in una giornata bellissima di sole, in che zona? Tolentino. Tolentino, famosa per? Afrau, cartiera. Afrau, sembra il dialetto di Civitanova, però ciao Afrau. Per la poltrona Afrau. La poltrona Afrau. Per un'attività manifatturiera famosissima. Il comparto della pelle, dei divani, eccetera. Ma è famosa anche per un istituto di istituzione superiore che si chiama? Francesco Filelfo. Chi era? Domanda da mille punti. Ma uno famoso, se gli hanno intestato la scuola. Sicuro, sicuro. Ecco, questa scuola è un liceo. Scientifico. Sì, classico. Classico e istituto tecnico-economico. Bene, ma ti sei dimenticato la cosa del coreutico. Che cos'è? Perché dobbiamo dire le nostre... Scuola di danza. Ecco, volendo, diciamo, volgarmente scuola di danza. Bene, stiamo per lanciare High School Game. Sei fidanzato? No. No. La cerchi come? Eh. La cerchi buona, mi hanno detto. Complimenti. Buon gustare dei colleghi. Un bel applauso, vai, andiamo. Come on. Che cos'è?